Io sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti. Il sistema contiene delle irregolarità e illegalità a partire dall'inizio della storia repubblicana. Troppo ho una notizia non positiva da dare, mi trovo qui in piazza Limonda e è morto un ragazzo, un manifestante. Oh madonna. No porca troia! Merde! 788.000 quante donne abbiano subito una forma di violenza fisica o sessuale. Complimenti, siete così bravi che mi viene voglia di invitarvi al bunga bunga. Complimenti a g***e. Sì sì, sei abbastanza carino. Ci fu un matrimonio tra povertà e fame. Invitati furono i capi di Stato che portarono come regalo di nozze aumento delle tasse e del proprio stipendio, creando disoccupazione. Rivoluzione! E tramore e rivoluzione! In confusione! Rivoluzione! E tramore e rivoluzione! In confusione! Il popolo di quel regno andò in miseria e rovina. Passarono gli anni. Nei palazzi del potere c'era felicità. Cresceva la povertà nelle città. Rivoluzione! In confusione! Rivoluzione! In confusione! Grazie a tutti. 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 Aspettiamo la pioggia per piangere quando bambini vengono sediziati, quando donne vengono scuprate da cani rabbiosi. Da quel matrimonio, tra povertà e fame, i fratelli occuparono i palazzi del potere e una figlia nacque. Rivoluzione! 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 Fazzamola! Rivoluzione! 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 Rivoluzione!